Radio Firenze Viola Tweet Viola Tweet Oh Fiorentina A cura di Fiorentina1.com La voce del tifoso Viola Una calorosa buonasera a tutti i nostri ascoltatori Continua il duello tra Juventus ed Inter Fuori dal campo in seguito al rinvio della gara prevista prestasera I tifosi nerazzurri continuano ad esporre striscioni polemici Sotto la sede della Lega E intanto si valutano proposte di calendario alternativo Sbuca la proposta di saltare le amichevoli delle nazionali Previste per fine mese In modo da recuperare qualche partita e sfoltire l'agenda delle squadre Intanto il mese di maggio diventa foltissimo per la Fiorentina Nel caso in cui non dovessero arrivare modifiche I ragazzi di Iachini scenderanno in campo per ben 5 volte Sfidando prima Inter e Roma Poi il recupero con l'Udinese Ed infine Bologna e Spal Per chiudere la stagione Per Fiorentina1.com Vincenzo Pennisi Viola Tweet Viola Tweet A cura di Fiorentina1.com La voce del tifoso Viola